In questo spettacolo mi capita di attaccare al bastone altre cose, ho attaccato dei dolci, ma quello che adoro di più appunto è il pane perché è un simbolo universale che si trova in tutto il mondo e che ha sempre la stessa simbologia, il cibo, il bisogno naturale delle persone per vivere. Bebita Baguette è un'idea che mi è venuta un po' di tempo fa e raccoglie un po' tutto quello che ho studiato e quello che so fare, a partire dal clown e dalla danza buto. È un trucco che adoro perché mi metto una linea bianca qua e un'altra linea bianca qua e una nera e una nera e questo fa sì che ti rende l'occhio storto. Mi piace molto lavorare con l'animo storpio che ognuno di noi ha. Grazie.